il caso solleva non solo interrogativi sulla correttezza nello sport ma mette anche in evidenza le richieste e la pressione a cui gli atleti sono sottoposti durante manifestazioni così prestigiose la tensione durante la gara era palpabile battocletti era tra le favorite e ha dato tutto per salire sul podio già nella prima metà della gara ha mostrato una prestazione notevole ma la concorrenza era forte in particolare l'atleta Kenyota Faith Kipiagon che ha offerto una prestazione eccezionale nella gara dei 5000 metri ha dominato la corsa e si è assicurata la medaglia d'oro la performance di Kipiagon è stata considerata dagli esperti come un'ulteriore prova delle sue straordinarie abilità che le consentono di ottenere risultati di vertice in questa disciplina in modo continuativo dopo il traguardo le emozioni sono aumentate per molti atleti Nadia Battocletti si è sentita inizialmente terza classificata ed era felicissima per la sua prestazione ha espresso quanto si sia dovuta impegnare per ottenere un posto sul podio nella disciplina ormai molto competitiva dei 5000 metri femminili secondo Battocletti partecipare alle olimpiadi è stato un sogno e ha sottolineato che la gara è stata molto dura la gioia per il primo posto e la medaglia associata è durata però solo poco dopo un'intensa revisione dei risultati il tribunale sportivo ha dovuto decidere che la medaglia di bronzo di Battocletti dovesse essere revocata a causa di una violazione del regolamento secondo quanto riportato sono state riscontrate irregolarità nella cronometraggio nella fase finale della gara in passato ci sono stati già incidenti simili che hanno messo sia gli atleti che i funzionari in una situazione difficile gli esperti in diritto sportivo sottolineano quanto sia importante garantire il rispetto delle regole in competizioni di alto livello sono dell'opinione che una comunicazione chiara e processi trasparenti siano essenziali per mantenere la fiducia nell'integrità dello sport per Nadia Battocletti la situazione è sicuramente deludente tuttavia le sue prestazioni e il suo impegno durante la competizione sono indiscutibili Chi si chiuderebbe? Nel quanto a me la faccio è So te ammada di Gio Stomenti Pquatt Io tu ne faccio aiutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti